ad un passo da una finale europea dei campioni. Per una delle due soltanto però ci sarà la gioia della finale di Parigi del 27 maggio, l'altra dovrà rinviare ancora l'emozione di un ritorno. Questo è il fascino della semifinale che Inter e Real disputano in due tempi, da sera a Milano fra 14 giorni, il 22 aprile a Milano. L'Inter degli anni 80 di Ivano Efraizzoli, Bersellini, Proasca, Altobelli, il Real di Luis De Carlo, successore di Bernabéu, di Santillana, Guanusso, Stiliche, hanno a disposizione 180 minuti per stabilire una nuova superiorità che valga a ricordare quella alterna di 15 anni fa. Le squadre entrano in campo sotto la pioggia. Lo stadio non è completamente cremito perché alcuni lavori lo stanno rgiattando per i mondiali dell'estate prossima del 1982. Su questo stadio infatti si disputerà la finale. Comunque sono 100.000 i presenti, l'incasso è di 680 milioni di pesetas che al cambio attuale vanno 800 e passa milioni di lire. Ci avviciniamo all'incasso da un miliardo che non è poi più tanto lontano. Il tempo è inclemente, la temperatura è mite ma cade una pioggia insistente e il campo già è allentato. Le formazioni. L'Inter gioca nella formazione annunciata con Bordon, Canuti, Bergomi, Baresi, Mozzini, Bini, Caso, Proasca, Altobelli, Marini, Muraro. In panchina sono schierati Cipollini, Tempestilli, Pancheri, Fasinato e Ambu. In tribuna c'è Beccalossi, squalificato, che è venuto un po' a studiare i suoi avversari perché nel ritorno insieme con Oriali, Bersellini vorrà schierarlo per ricostituire la formazione titolare. La formazione del Real Madrid, come di consueto, in completa tenuta bianca, è in porta Agustin. Il terzino destro con il numero 2, Isidro. Il terzino sinistro con il numero 3, Camacho. Lo stopper con il numero 5, Savido. Il libero con il numero 10, Navajas. A centrocampo giocano, mediano destro, Angel, con il numero 8, centro-mediano, Stiliche, con il numero 4, mediano sinistro, Del Bosche, con il numero 6. Le tre punte in attacco sono Juanito, con il numero 7, Santigliana, con il numero 9, Pineda, con il numero 11. Dirige la partita una terna arbitrale olandese. Il direttore di gara è il signor Korber. L'Inter gioca alla destra dei nostri teleschermi il primo tempo. Vedete un primo piano di Bini. Il capitano ha provato anche stamane. Sandro Mazzola ha detto che può considerarsi in perfette condizioni fisiche. C'erano alcuni dubbi ancora su di lui. Vi ripeto quindi la formazione dell'Inter. Bordon, Canuti, Bergomi, Paresi, Mozzini, Bini, Caso, Proasca, Altobelli, Marini, Muraro. Il calcio d'inizio è dell'Inter. Tutto è pronto. Ecco iniziata la semifinale della Coppa dei Campioni. Partita di andata. La palla è a Muraro. Il passaggio indietro a Paresi. Ancora a Pini. E Bordon tocca il suo primo pallone. Naturalmente la tattica dell'Inter è chiara. Cercherà di limitare i danni. Confidando nella partita di ritorno. Una partita di ritorno che potrà vederla nella formazione migliore. Cioè anche con Oriali, oggi infortunato, e Beccalossi, oggi squalificato. Ecco il lancio di Stili che è verso il terzino destro, Isidro. Il pallone è lungo, la palla è sul fondo. Mi ripeto, piove. Insistentemente. Muraro. Varesi. Caso. Proasca. Il pallo di Angel su Proasca. Battuta la punizione. Caso. Il servizio per Marini non ha successo. Viene in avanti il Real. Angel. Stili che adesso ha la palla, già quasi in zona tiro. Si sono chiusi tutti i corridoi della difesa nera azzurra. Del Bosche. Ecco il traversone di Del Bosche. Santilliana. Di testa Santilliana la palla ha sfiorato il palo della porta di Bordoni. Pericolo per l'Inter dopo due minuti. Un cross di Del Bosche. e un colpo di testa di Santilliana. La palla ha sfiorato il palo. Ancora Del Bosche. Rimbalza su di lui il rilancio di Paresi. E la palla è preda di Bordoni. Vini. Il Madrid sta giocando in dieci uomini. Non si avvede Bini che alle sue spalle arriva Navajas. Però il capitano riesce a rinviare. Ma la palla è terminata in palo laterale. In vano il guardaline segnala la cosa all'arbitro. Camacho. Isidro è fuoricampo. Il Real Madrid gioca in dieci uomini. Si è ferito Isidro. Già sta scaldandosi Cortes ai bordi del campo. Vediamo se il Real, se Boscov effettua questo cambio. Vini credeva che si trattasse di un calcio di punizione. Non è stato così. Allora ha rimesso con le mani. Poi c'è stato un fallo ai danni di Muraro. L'ha commesso Camacho. E allora c'è il calcio di punizione in favore dell'Inter che sta per battere Vini. Colpo di testa di Stiliche. Barisi. Marini. Marini indietro a Bergomi. Il passaggio è corto. Recupera Santigliana. Ma ancora caso a Proasca che è piuttosto arrebrato. Angel. Ancora il cross di Camacho. Colpo di testa di Canuti. Navajas ha messo al centro il pallone. Juanito. Juanito. Fermato da Bergomi. Che poi allontana. Pallone è lungo per Altobelli che comunque riesce a raggiungerlo. Al centro per Baresi. Avanza Baresi. Passaggio a Proasca. Che è una leggera deviazione da parte di Del Bosche. Stiliche. Siamo al testo minuto del primo tempo. 0 a 0 a Madrid. Tra Real ed Inter. Deliazione di Tacco. Di Santigliana. Su un filo da lontano da parte di Navajas. Parata senza difficoltà da parte di Bordone. È rientrato Isidro. Anche se appare soppicante. Con una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro. Quindi non è stata effettuata la sostituzione. Stiliche va via sulla sinistra. Ecco il cross di Stiliche. Santigliana. Altopelli in posizione difensiva. Ha tolto la palla a Santigliana e l'ha data a Proasca. Ecco lo scatto di Proasca. Lancio per Muraro. Fuori gioco. Ecco è pronta la panchina del Real a effettuare la sostituzione. Soffica sempre più vistosamente Isidro. Proprio non ce la fa. Appena la palla terminerà in parolaterale. La sostituzione verrà effettuata. Ma intanto viene in avanti. Angel. Su quale ha messo in parolaterale caso. Ecco la sostituzione. Cortes prende il posto di Isidro. Con il numero 14 gioca adesso Cortes. E' uscito Isidro. Ecco il cross di Agel. Il colpo di destra di Vini. Palla fuori area. Entrato Altopelli in gioco pericoloso. Quella verità è che lo spagnolo aveva abbassato la testa. Battuta la punizione. Ecco il tiro del nuovo arrivato. Cortes con palla rasoterra. Non distante dal palo di Porton. Il tiro di Cortes. Lo scambio con Mottini da parte di Porton. Canuti. C'è un malisteso con Paresi. Conquittano la palla agli spagnoli. Viene in avanti Pinedo. Il suo cross è deviazione di caso. Arriva lo stesso Isidro. Arriva lo stesso Camaccio. Ma poi prima Paresi. E adesso caso. Allontanano la palla dall'area di rigore dell'Inter. Rilancio di Marini. Proasca. Ankel ha commesso fallo su Proasca. E c'è un calcio di punizione. L'ha battuto lo stesso Austriaco. Lanciando in avanti Paresi. Sul quale commette fallo Stiliche. Calcio di punizione in favore dell'Inter. Limite dell'area. Come al Pezza però vicino al faro laterale. Ecco toccata la palla da Paresi per Proasca. Altobelli. Altro fallo su Altobelli. Questa volta è stato commesso da Salido. Calcio di punizione in favore dell'Inter. Proasca sulla palla. Poco più dietro Muraro. Ecco la palla per Muraro. Tiro fuori. Tiro di Muraro. Verso la porta di Agustin. Che è il terzo portiere del Real. Infortunato il portiere titolare. Boscov invece di affidare la difesa della porta a Michel Angel. L'anziano portiere ha preferito far giocare il 19enne Agustin che è anche il portiere della squadra giovanile di Spagna. Un pallone lasciato a Stiliche. Poi Camaccio contro Camaccio con Muraro in posizione difensiva e palla sul fondo. Alternativamente le punte dell'Inter. Altobelli e Muraro retrocedono anche in piena area di vigore. E' una partita molto difficile per l'Inter che gioca senza Oriani e Peccalotti. Angel. Poi Navajas con un bellissimo lancio sulla destra verso Cortes. E Muraro ancora in difesa che mette fuori. Rimette in gioco di Cortes. Juanito. Ha commesso pallo per Gomi su Juanito. Non è un calcio di punizione indiretto. Tira a Juanito. E' stata una deviazione da parte di Santigliana. Mentre Porton pensava che la palla terminasse sul fondo. E poi Bergomi ha scaraventato la palla in calcio d'angolo. E' il primo calcio d'angolo della partita. Azione molto pericolosa sulla punizione di Juanito. Punizione di Juanito. E ora la palla Canuti. Ma prosegue ancora Santigliana. Che vede libero ma molto arretrato Cortes. Gli serve la palla. Il lancio di Cortes. E' su Juanito. Muraro riesce a rinviare. C'è un fallo di mano di Cortes. Comunque l'albitro per il vantaggio ha lasciato. Perché l'Inter è riuscita nel disimpegno. Riparte ancora Savido. Cortes. Del Bosche. Spaglia l'appoggio e serve involontariamente Proasca. Ma Del Bosche riconquista la palla. La rimette ancora in profondità. Colpo di testa. Di Santigliana. Che è pericolosissimo nelle deviazioni aeree. E palla sul fondo. Ancora una combinazione Del Bosche-Santigliana. Con deviazione del centroavanti sul fondo. 0-0. Siamo giunti al tredicesimo minuto del primo tempo. Colpo di testa di Ancel. Proasca verso Muraro. Al volo indietro. Controlla la palla Canuti. Verso Proasca. Che riceve una spinta da parte di Ancel. Calcio di punizione in favore dell'Inter. E' un calcio di punizione. Lo batte Vini verso Marini. Fallo di Del Bosche su Marini. E calcio di punizione. L'arbitro è olandese. Ecco il calcio di punizione. Va a batterlo caso. Altobelli. Finta di Altobelli su Sabido. Bello il cross. Esce il pochiere. L'invia. Tiro di Bergomi. Sul fondo c'è una deviazione che l'arbitro non vede. Che in vano reclama Bergomi. Gran tiro di Bergomi sulla respinta del portiere Agustin. Sul bel cross di Altobelli. Seguito a un'ottima vinta e un ottimo scatto. Partecipa a questa stazione il libero Navajas. Ha toccato Ancel. Poi Camacho. Colpo di testa di Canuti. Palla fuori area. Tocca caso. Non riesce a raggiungere la palla Muraro. La prende allora Cortez. Navajas. Santigliana. Il colpo di testa è di Canuti che mette fuori. Ancora Canuti ostacolato da Stiliche. La palla è ancora in gioco. Cortez. Del Bosche. Nuovo cross insidioso in area di Del Bosche. E Bordone va a tuffarsi sui piedi di Santigliana. Che era stato messo in condizioni di tirare da uno stop di Mottini. Croazza. 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 colpo di testa di Mottini raccoglie Marini. Rinvia anche lui nella metà campo avversaria. Rincorre la palla Navajas. Molto coperta l'Inter. D'altra parte è la tattica che deve usare stasera. e ricordando il successo di Belgrado non le si può dar torto. Un lancio in avanti di Savido è terminato in faro laterale. La rimette in gioco di Proasca. Il rilancio in avanti di Marini verso Altobelli. Paresi. Per caso. E viene in avanti adesso Canuti. Che rimette al centro un bel pallone. Esce il lunghissimo portiere Agustin. Para. E rinvia. Non arresta bene Camacho. Rinvia molto bene Marini. E poi Savido per evitare Altobelli in faro laterale. L'ha rimesso in gioco di Bergomi. Altobelli. Savido ha tolto la palla ad Altobelli. Ankel. Bergomi adesso va a chiudere su Stiliche. Che riesce a mettere al centro un pallone in area. Anticipo su tutti di Mottini. Raccoglie ancora Ankel. Nuovo cross al spiovere in area. Colpo di testa di Bini. Accorre Altobelli. Che riesce a servire indietro Marini. Marini si scontra con Stiliche. Piuttosto duro. Il pallone laterale è madrileno. L'ha rimesso in gioco a Camacho. Ancora un cross al spiovere di Camacho. Esce Bordone. Ristinge di pugno corto. Canuti. Sul quale commette fallo Bineda. Gioco fermo. Il calcio di punizione. Il favore dell'I. Sono passati venti minuti. Il punteggio è zero a zero. Colpo di testa è stato di Altobelli. Navajas sull'attacco congiunto di Altobelli e Caso. Ha scambiato indietro con il portiere. Il pallone laterale è assegnato al Real. La rimessa in gioco è di Stiliche che ha già scambiato. Crosse di Camacho. Caso al limite dell'area raccoglie. Poi ha rinviato Marini sul passaggio indietro di Caso. Prima dell'attacco di Juanito. Navajas. Ankel. Cortes. Ancora un pallone che si ove in area. Bergo mi ha messo Boriare. Antimottini. Proasca. Esitato momento nel rinvio. Stava per approfittarne Pineda. Due uomini su Proasca. In staccata però l'Austria riesce a prevenire l'affondo di Pineda. L'ha rimessa in gioco di Ankel. Dalle retrovie arriva Cortes. Ancora un pallone che si ove in area. Respinge Bordone. con Juanito. Attacco di Santigliana esce ancora dall'area piccola. Mottini e mette in calcio d'angolo. Il secondo tiro dalla bandierina in favore del Real. Al ventiduesimo dalla bandierina Guanito. Santigliana di Testa. Poi Canuti. Poi c'è una bellissima rovesciata da parte di Ankel. E' parata. La rovesciata di Juanito. E' parata di Pordone. Altobelli. A Sabido e dietro Navajas. Scatto di Altobelli. Caso. In corta rimette al centro un pallone. Navajas che glielo ha fermato. Fili che corre verso il centro del campo. L'ha fermato Barsi. Ci ha già scambiato con Altobelli. Ritarda il passaggio Barsi perché era in fuori gioco Muraro. Camacho. Ankel. Guanito. Guanito e Bergomi. Esce il tunnel di Guanito. Ma è Vini che poi va a chiudersi la strada. Rilancia nella metà campo spagnola dove non c'è nessuno dell'Inter. A muro l'Inter al limite della propria area di rigore e poco avanti. D'Antigliana. Triangolo con Cortes. Il tiro di Cortes è messo in calcio d'angolo da Muraro. E' il terzo tiro dalla bandierina in favore del Real. Mentre sono tutti i quattro i minuti di gioco. Il puntissimo è 0-0. Guanito. L'allontana Pini e poi ha rovesciato Altobelli. Ormai tutti i giocheroi dell'Inter sono entro l'area di rigore. Del Bosch. Camaccio. Anche Camaccio viene fermato da Baresi ed è nuovo calcio d'angolo. Il quarto. Baresi ha impedito il cross di Camaccio. E Guanito si sposta dalla parte opposta per battere ancora il calcio d'angolo. Pini. Poi allontana Canuti. Stiliche. Guanito è rimasto da quelle parti dopo aver battuto il calcio d'angolo. ha saltato un avversario. Scatto ancora di Guanito. E c'è un fallo fissiato dall'arbitro che ammonisce addirittura Baresi. Per la verità Baresi aveva toccato la palla che infatti è terminata in calcio d'angolo. Ne si può pensare ad una munizione per prevenire il gioco falloso perché la partita anche se molto spezzettata, nervosa, tesa, era per ora notevolmente corretta. Comunque, ammonito, Parigi. Guanito, colpo di destra di Caso, palla fuori area, la rincorre del Bosque. Navajas. Caso ha tolto la palla all'avversario che era Angel. Proasca, Baresi e Altobelli sono già proiettati in avanti. Adesso arriva anche Marini. Altobelli. Marini. Mozzini. Pini. Ancora Marini indietro. Da Canuti ad Altobelli. Per ultimo tocca al Zavido nel duello e rimessa in gioco quindi per Vinter. Per mezzo in gioco di Marini. Altobelli. Non controlla bene Altobelli e che pone la palla sul fondo. Continua a piovere anche se la pioggia si è attenuata. Il campo resiste bene. Comunque si moltiplica la fatica dei giocatori. Tiene davanti Stiliche. Pineda. Camaccio. Pineda. Su cui gioca Canuti. Il cross deviato in calcio d'angolo da Canuti. È il quinto. 27 minuti di gioco. Vanito. Camaccio. Colpisce male. Santigliana. Stilo di Santigliana è nettamente fuori. Forse anche stavolta c'era la deviazione involontaria di un giocatore dell'Inter come si è verificato anche dalla parte opposta. Anche l'altra volta dalla parte opposta l'arbitro non l'aveva vista e quindi non ne aveva fischiato il calcio d'angolo così come adesso è accaduto. Bello il colpo di testa di Savido. Santigliana. Pineda. Camaccio. Colpo di testa e rinvio di Bergomi. Ballone lanciato in zona morta per guadagnare tempo. l'Inter gioca questa partita di andata della semifinale unicamente per limitare i danni confidando poi nella partita di ritorno al Meatta. Rinvio di Pini. Dipende ancora del Bosche. Caso vola fra i due. La palla termina in spallo laterale. C'era stato anche un intervento irregolare su Caso. Comunque, forse anche per quello l'arbitro non ha richiamato severamente come poteva Caso che ha allontanato la palla impedendo la rimessa in gioco. Da del Bosche a Navajas. Ancora un cross. Colpo di testa di Mottini. Dipende ancora Pineda. Poi c'è un fallo di Muraro su Navajas e un calcio di punizione in favore del Madrid. La posizione piuttosto pericolosa. La calciata a Juanito. Ed è il gol con un perentorio stacco di Santigliana. Il Madrid è in vantaggio al ventinovesimo con Santigliana. Già si era messo in luce Santigliana per questi suoi colpi di testa in area, tant'è vero che i suoi lo cercavano insistentemente con dei cross al piovere. Adesso sulla punizione di Juanito vedete con che decisione nel replay, l'abbiamo rivisto, è saltato e ha messo dentro. Real 1-0 interzero al ventinovesimo del primo tempo. Ha segnato Santigliana, centroavanti e capitano del Real. Il lancio di Stiliche verso Cortes che lascia a Juanito. Ballo su Marini che è stato cinturato da Camaccio. Marini aveva riguadagnato un pallone su colpo di testa. Spini verso Muraro che è anticipato da Angel. Riparte Stiliche, fermato in un primo tempo da Parisi, riesce ugualmente a mandare in avanti un pallone. Adesso lo manovra a caso. Una spallata di Juanito e calcio di punizione in favore del Real. Battuta la punizione con Bergomi e Parisi, la palla torna a caso. Altobelli cross di Altobelli colpo di testa di Savido palla fuori area disimpegno ordinato del Real con lancio ancora di Juanito verso Camaccio controlla la palla Spini con questo passaggio indietro a Bordoni. E' il trentaduesimo minuto del primo tempo il Real conduce per 1-0 dopo il gol segnato da Santigliana due minuti fa. Una punizione di Juanito un colpo di testa di Santigliana non c'è stato niente da fare per Bordoni. La pinta di Spini che rinvio di Navajas il lancio di Del Bosque Camaccio Spini Ancel rinvio affannoso di Muraro e ancora un cross e questa volta la Soterra ha rinviato a caso Altobelli e sulla sinistra mentre viene in avanti Muraro scatto di Muraro Muraro traversone di Muraro e troppo in profondità per Altobelli si erano liberati al centro Altobelli e caso il passaggio di Muraro che aveva anche l'aria di essere un tiro era troppo avanzato per essere sfruttato come un passaggio da Altobelli bello bello comunque lo scatto di Muraro che ha dato una prova della sua velocità Ancel contrastato da Proasca aveva vinto il duello Proasca Ancel ha commesso una irregolarità il calcio di punizione in favore dell'Inter ha battuto la punizione Proasca Pini Subini entra in scivolata Pineda la rimesa in gioco è per l'Inter Bergomi la effettua si sfugge la palla bagnata non raggiunge Baresi che comunque è andata a recuperare la palla ancora Bergomi caso dopo la respinta della difesa Mottini caso Mottini ancora si è fatta un poco più intraprendente l'Inter dopo aver subito il gol attacco di caso si toglie la palla Ancel Camacho Capovolgimento di fronte del Bosche è ancora un cross a cercare la testa di Santigliana Juanito sul colpo di testa di Canuti che aveva prevenuto Santigliana un attiro saettante di Juanito che passa radente la traversa colpo di testa di Del Bosche Broasca Broasca Mottini Spini viene avanti molto bene il capitano caso caso triangolo con alto pelli ma il pallone di ritorno è troppo in profondità per la velocità di caso panno laterale in favore del Real del Bosche del Bosche bello il lancio per Cortes era in posizione troppo arretrata Camacho e prima Mottini poi Bergomi effettuano questo disimpegno su Bordon mancano nove minuti alla fine del primo tempo il Real conduce per 1 a 0 questa è la semifinale l'andata della semifinale della Coppa dei Campioni si conquista un pallone Pineda e davanti a lui Canuti il cross di Ankel prima il colpo di testa di Mottini poi il rinvio di Marini del Bosche si conquistano palloni in difesa in innumerevoli interventi i difensori neroazzurri ma i rilanci non possono essere sfruttati ecco un altro esempio ha rinviato Baresi ma la palla rimane sempre ai bianchi il cross di Ankel ed è riuscito Marini ad evitare un tiro di Camaccio si capovolge il fronte e va in attacco Muraro non riesce le cross a Muraro anche per l'intervento di Camaccio Guanito Bergomi 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 ha sfiorato il pareggio con una intesa con Altobelli ecco vedete Bergomi che lancia Altobelli gli ritorna la palla il pallonetto è di un soffio alto ha ragione di disperarsi il giovane Terzino l'inter vicinissima al pareggio al 37esimo minuto con Bergomi Ankel del Bosch in area invio di Bini stop un po' laborioso di Stiliche che comunque riesce a servire Ankel Altobelli arretrato non vede Ankel lo travolge nel tentativo di salto e c'è un calcio di punizione in favore del Real Del Bosch colpo di testa di Canuti poi di Caso poi di Ankel Guanito del Bosch nuovo cross del Bosch esce Bordone del Stinge travolto da un avversario rimane a terra riprende ancora Ankel su Santigliana che in diagonale ancora sofferente Bordone ora c'è un fallo di Pineda su Canuti si riprende Bordone è stato travolto da un tentativo di colpo di testa di Santigliana sono scontrati in aria i due è caduto a terra Bordone adesso si riprende a corre anche della casa ma Bordone tiene regolarmente il suo posto ha ricevuto il calcio di punizione che era stato concesso per il fallo di Pineda su Canuti ed ora è egli stesso che rinvia in perfette condizioni caso Altobelli Altobelli e Navaha sei libero ed è calcio d'angolo è scivolato Altobelli sul terreno ormai reso viscito dalla pioggia che continua a cadere è terminato in calcio d'angolo per l'Inter il primo calcio d'angolo della partita dopo che il Real ne ha battuti 5 dalla lunetta a Proasca Sara gli perde la palla Agostin ma poi la riconquista Barisi con un intervento in scivolata aveva riconquistato la palla ma è terminata a lunga dove non c'erano altri neroazzurri Camacho Angel Alameglio Marini che riesce a rinviare schiola la palla Muraro alle spalle arriva Navaha Stiliche Ancel sbagliato l'appoggio di Ancel palla sul fondo siamo agli ultimi tre minuti del primo tempo con il Real che conduce per 1 a 0 dopo che il Real è passato in vantaggio la partita si è fatta equilibrata anche l'Inter si fa viva in avanti e in un'occasione è andata vicinissima al pareggio con una bella intesa Altobelli Bergomi e pallonetto del Zerzino che ha saltato il portiere ma per sfortuna dell'Inter ha saltato anche la traversa di pochissimo colpo di testa di Bergomi di Santigliana Angel Stiliche Murarov che perde la palla del Bosch e l'ha riconquistata l'appoggio del Bosch è stagliato riprende Altobelli che può trasformare l'azione e mentre scattava mentre scattava caso Angel lo ha preso per la maglia e quindi è stato ammonito dall'arbitro Angel così come Baresi sono i due ammoniti della partita non ha raggiunto la palla a caso viene in avanti Pineda spostata a destra Pineda l'intervento è di Canuti nettamente sulla palla stop elegante di Del Bosch ma poi Altobelli interviene la rimessa in gioco è assegnata al Real l'ha effettuata Sarido Navajas proprio negli ultimi minuti del primo tempo il Real riprende il suo attacco ha mancato la palla Bergomi la rimette al centro Pineda è ancora in bella elevazione per gli applausi che ascoltate colpisce di testa Santigliana mandando alto sulla terrestre è veramente un pericolo in piena area di rigore Santigliana che prevale sempre su tutti nei palloni alti è lui che ha segnato l'unico gol della partita al 29esimo tocca Altobelli Filiche Navajas va a terra Navajas forse c'era un fallo di due contro uno l'arbitro non lo ha rilevato rimessa in gioco per l'Inter con Marini Proasca ad Altobelli bello il dribbling e il passaggio su Bergomi che è arrivato dalle retrovia ancora Altobelli che ha tolto la palla Savido che lascia proseguire Juanito ancora in area colpo di teso di Santigliana e allontana Mottini Altobelli lancio per Muraro che scatta bene Muraro ma la palla è lunga acquista velocità sull'erba pagnata esce in bello stile Agustin e quindi l'azione dell'Inter chi perde è terminato il primo tempo Juanito Angel ecco l'altro cross in area colpo di testa di Marini si prende Silicke buon tiratore da lontano effetto è il tiro un compagno di squadra glielo respinge Camaccio effetto un nuovo cross Altobelli in area Caso Altobelli ecco il fischio dell'arbitro Korver il primo tempo termina in favore del Real per 1-0 fin dei conti l'Inter ha subito e ha subito molto ma fino al gol dopo il gol la partita si è equilibrata e l'Inter ha fatto anche vedere che può dire la sua anche in attacco adesso per Bertellini c'è da scegliere il modulo tattico per la ripresa difendere l'1-0 oppure cercare di segnare quel gol che sarebbe preziosissimo in trasferta vedremo dall'andamento dei secondi 45 minuti di gioco quello che l'Inter potrà fare in questo suo difficile impegno ma sono sostituzioni vi ricordo ne ha effettuata una all'inizio ha dovuto rinunciare al terzino Isidro e al suo posto gioca Cortes con il numero 14 non c'è il numero 2 nella squadra madridena ecco iniziato il secondo tempo subito un lancio di Stili che in area ha il colpo di testa e di Vini si prende Camacho che tenta subito il tiro c'è una deviazione deve correre Bordone per evitare il calcio d'angolo già ne ha subiti 5 l'Inter nel primo tempo tutti nella fase iniziale cioè nella prima mezz'ora perché poi quando è passato in vantaggio il Real la partita si è più equilibrata e la palla si è allontanata più spesso dall'area di rigore dei nero-azzurri che hanno anche avuto con Bergamo la possibilità di arrivare al parecchio l'altra parte occorre anche sottolineare che a parte il gol non è stato impegnato Bordone in altri interventi difensivi riprendiamo la partita è il primo minuto della ripresa con questa rimessa in gioco del libero Navajas ecco Stiliche Angel ha mandato in avanti sulla respinta Paresi ha controllato al centro del campo il genitorio la palla molto bene Altobelli su Paresi interviene Stiliche che riparte il Real con Juanito Stiliche Juanito e sono due azione prolungata di Stiliche Angel e Juanito e Juanito segna il secondo gol al secondo minuto della ripresa ha segnato Juanito ecco rivediamo l'azione Stiliche Juanito è rapidissimo Juanito a sfruttare il passaggio di Stiliche e a tirare prima dell'intervento di Canuti 2 a 0 per il Real al secondo minuto del secondo tempo adesso l'Inter deve cercare con più insistenza il gol perché il punteggio di 2 a 0 può essere un margine dietro il quale il Real può giocare la partita di ritorno ho messo un fallo da parte di Stiliche ecco il calcio di punizione battuto da Bini l'attacco di Altobelli è fermato da Savido ha messo fuori Savido per la rimessa in gioco è pronto Paresi Proasca Marini Proasca ancora scambiato Paresi Proasca il pallone ma è fuori dalla linea bianca la rimessa in gioco del Real ancora un parolaterale mentre vediamo che Pasinato sta scaldandosi ai bordi del campo questo lancio di Marini in area il colpo di testa è di Cortes Stiliche che tanta parte ha avuto nella realizzazione del secondo gol viene ancora in avanti ecco l'apertura per il libero Navajas che si porta oltre la metà campo del Bosche bello in lancio per Camacho che rimette subito al centro controlla la palla Paresi e con un po' di azzardo la serve indietro a Bordone la finta di Muraro ha tratto in inganno Cortes ma poi nel recupero Camacho Anzi Angel manda a terra Muraro calcio di punizione in favore dell'Inter tutta la partita si sposta adesso in avanti sulla palla è Proasca ecco il cross di Proasca ha rinviato del Bosche poi tira Marini bellissimo il tiro di Marini da un 20 metri con parata di Agustin sul tiro fortissimo ma centrale colpo di testa è stato di Canuti Marini Altobelli Caso Muraro alto Muraro ha sprecato la più facile delle occasioni Muraro Muraro lanciato perfettamente da Caso Muraro ha sparato alto seccato altra occasione gol per l'Inter ecco rivedete il lancio e il tiro di Muraro disturbato anche da Cortes la punizione in fuori del Real Madrid perché ha toccato la palla con la mano Caso del Bosche Stiliche Ankel fallo di Marini calcio di punizione per il Real il fallo di Marini su Ankel ha tirato Juanino presa di Santigliana palo palo di Santigliana ancora una volta la spunta su tutti e poi mette in calcio d'angolo Canuti tiro dalla bandierina per il Real e il sesto tiro il primo della ripresa Juanito Ankel Ankel deviazione di Porton in calcio d'angolo ora è più pericoloso ancora il Real perché gioca in esternità con il doppio vantaggio tiro di Ankel deviato in calcio d'angolo da Porton il sesto settimo tiro della bandierina per il Real sempre Juanito alza Paresi ed è nuovo calcio d'angolo appare un po' demoralizzata la squadra milanese aveva combattuto bene il primo tempo tra vita da questo gol a freddo all'inizio della ripresa non si è ancora ripresa è stato Sabido lo stopper a colpire la palla di testa sul calcio d'angolo del solito Juanito la palla sul fondo Canuti Bergomi Marini lotta su tutti i palloni Marini Santigliana del bosche del bosche navagas era scattato molto bene Pineda in mezzo ai difensori aggirando Mazzini ed è intervenuto Porton momento molto critico per la squadra italiana Cortes che apre su Santigliana ad avanti Mazzini lo salta Santigliana Juanito Stiliche si è portato la palla avanti anticipato da una uscita di Porton navagas di testa stop fa la terra da parte di Altobelli Muraro su Muraro si sposta Cortes Altobelli non raccoglie Altobelli riesce a prendere Baresi che tira alto e lontano dalla porta a perdere ecco Pasinato che sta per entrare in campo ancora non lo fa la partita è ripresa Stiliche Ankel Pineda lotta con Canuti e si porta la palla fuori la rimessa in gioco di Canuti a Bini controlla un difficile pallone Bini Santigliana il servizio su Juanito che è colto fuori tempo e la palla va verso Bordoni Sinter in un momento di stallo ripeto dopo il secondo gol è piombata in una crisi Mazzini è venuto avanti ha scambiato con Baresi adesso va sulla sinistra Altobelli fermato da Salido la rimessa in gioco è per l'Inter mentre Pasinato continua a macinare chilometri ma non avviene il segnale da parte di Bersedini per entrare in campo Baresi Bergomi Altobelli di nuovo il triangolo con Bergomi e questa volta sullo scatto di Bergomi è Navajas che manda in calcio d'angolo perfetta l'intesa Altobelli Bergomi tre volte si sono mozzi in tandem ne è venuto fuori un pallonetto che stava per terminare in gol questa azione ed un'altra analoga nel primo tempo con difficoltà da parte degli avversari lungo il calcio d'angolo di Proasca salta tutti anche il lunghissimo portiere che va sul fondo dalla parte opposta guanito cortes iliche del Bosche sparata di Bordone poi allontana Mottini ancora del Bosche che mette in area Fineda si arresta e tira in mezza rovesciata alzando sulla trarezza su rinvio di Bordone il colpo di destra di Camacho il rilancio di Bergomi Proasca riesce a prendere la pallo ugualmente Proasca ma serve inadvertitamente Juanito del Bosche corte intercetta Proasca ma poi sbaglia l'appoggio Muraro tenta di scattare Angel va giù su intervento di Canuti calcio di punizione in favore del Real che batte del Bosche colpo di destra di Mottini di Muraro Muraro riparte il più avvantato di tutti cerca di allungare su Caso scatta Caso esce dall'area di rigore il portiere Agustin aspetta la palla e la fa sua perde la palla del Bosche su intervento di Proasca ma alle sue spalle la prende Davido Stiliche un pallo di Canuti causa questo calcio di punizione al Real che ha molto rallentato il ritmo gioca con molta cautela ecco esce Mottini ecco la sostituzione esce Mottini spasinato al posto di Mottini al 14esimo minuto del secondo tempo ecco il calcio di punizione battuto la palla supera anche Bordon e questa volta Santigliana grazie la porta dell'Inter saltando lui che è uno specialista fuori tempo Fini ecco la prima palla manovrata da Pazinato lotta con Navajas mantiene il possesso della palla però non riesce il suo cross Juanito ecco il lancio su Navajas il libero che diventa alla sinistra ecco ancora un cross in area colpo di testa di Santigliana adesso Bersellini ha passato su Santigliana Bergomi Fasinato Fineda gli toglie la palla ma non la raggiunge prima del pallo di fondo il lancio di Bini per questo scatto di Proasca sul quale il libero Navajas staccata in paro laterale il primo gol non aveva certo diminuito le possibilità dell'Inter anzi le aveva aumentate ma il secondo dobbiamo dire che ha praticamente spento la squadra di Bersellini infatti la partita adesso che anche il Real non ha più la spinta iniziale è piuttosto caduta Camaccio del Bosche Fasinato gli ha tolto gli ha tolto la palla e Marini la lancia per Altobelli che è in fuorigioco anzi Muraro che è in fuorigioco ecco il collaboratore olandese dell'arbitro Corver da Juanito ad Angel ed ecco Camaccio che diventa anche lui attaccante mette al centro un altro pallone salta Santillana prende la palla Canuti è riuscito a sbrogliare l'area Baresi Vineda commette fallo su Baresi calcio di punizione battuto dall'Inter Caso Canuti Bergomi e vedete infatti che è Santillana che va a contrastare Bergomi ormai Bergomi gioca su Santillana Marini ha guadagnato questo pallo laterale Caso Tuparesi anticipo di Navajas riconquista la palla Proasca molto bene una serie di finte Caso Basinato colpo di testa di Camaccio libera l'area e Juanito terbe verso Pineda e ancora un fallo commesso da Pineda e quindi un nuovo calcio di punizione in favore dell'Inter Proasca si ha toccato la palla Caso Basinato si è dato forse un fallo di Pineda su Basinato non rilevato dall'arbitro ecco il lancio su Camaccio Camaccio tiro fuori bella puntata in avanti di Camaccio ed è a corso Proasca nel tentativo di ozzacolarlo proprio Proasca che pochi secondi prima aveva rifinito un pallone in avanti per Pasinato il Real conduce per 2 a 0 ed è il diciannovesimo minuto del secondo tempo l'attacco di Altobelli il cross era soterra è stato deviato da Navajas riprende ancora Altobelli ecco di nuovo il cross tiro di Pasinato ribatte Camaccio Stiliche con lancio su Juanito Juanito inseguito da Baresi ancora Juanito Santigliana ha perso il momento per il tiro Santigliana pensavamo che osasse il tiro al volo invece ha tentato il controllo della palla sull'erba viscida e l'ha perduta Caso Pasinato tenta di aggirare Stiliche ma l'esperto tedesco che gioca nel Madrid non si lascia ingannare anzi è lui che riporta la palla in avanti si libera Del Bosque sulla sinistra e riceve sta ritornando su il Real il cross di Del Bosque è alto e sul fondo ma gli applausi per i Real in questa fase sono meritati conduce per 2 a 0 e sono passati 20 minuti del secondo tempo i gol come avete visto al 29esimo del primo tempo di Santillana al secondo del secondo tempo Juanito l'Inter ha offerto alla partita il momento migliore proprio fra i due gol che ha subito la frustata del primo gol l'ha portata in avanti a sfiorare il pareggio il secondo gol invece subito a freddo all'inizio del secondo tempo ha un po' irretito la squadra italiana che non è riuscita più a riprendersi è fuori il pallone di Camacho quindi c'era rimessa in gioco da parte dell'Inter il lancio di Pasinato a Marini che riesce a mettere al centro un pallone in corsa e in anticipo Camacho su Proasca un faro laterale messo in gioco di Paresi a Proasca è fuori il pallone dice il guardaline quindi rimesso in gioco di Juanito a Stiliche rilancio di Stiliche e su questa fascia a sinistra si liberano a turno gli avversari ecco il cross di Camacho Bergomi e Santigliana sulla palla e lo spagnolo che la conquista Bergomi lo trattiene irregolarmente calcio di punizione e a munizione di Bergomi alla munizione a Parisi è seguita adesso quella di Bergomi e la punizione in favore del Real del Bosche salva di testa del Bosche i Marileni chiedevano il calcio d'angolo sostenevano che Pasinato avesse toccato per ultimo l'arbitro era lì ha detto di no e spazi vedete rimettere Bordon Proasca Pasinato Proasca Lancia su Caso Ancora Proasca Pasinato Marini Pasinato Pasinato Altopelli che ha effettuato questo cross per Altopelli troppo lungo e sul fondo del Bosche Angel sembra essere pago il Real del doppio vantaggio Pini Pasinato il passaggio è su Pini da parte di Pasinato ha intuito Stiliche e viene in avanti Real con Pineda Angel Pineda fa chiudere Marini e causa il nono calcio d'angolo in favore del Real dicevo che il Real appare pago e questo è discutibile perché nella Coppa dei Campioni il 2 a 0 non è un risultato rassicurante ma appare vaga anche l'Inter e questo è un po' più preoccupante perché ripaltare a San Siro contro questa squadra il 2 a 0 non è impossibile ma non è molto facile il colpo di testa è stato di Pini palla fuori area Pineda Juanito Juanito Pazzato si aggancia si aggancia con molta eleganza libera bene su Altobelli al volo su Muraro Muraro al centro caso raccoglie dalla parte opposta il cross per Altobelli Stiliche ferma colpetto e a lontano riparte il Real con Juanito che ha saltato Pazzinato che ne attenua il passaggio e allora è Proasca che interviene bel palleggio di Proasca e la palla è appasinato Paresi il lancio di Pini in aria appasinato Altobelli non riesce il triangolo Altobelli Muraro e riparte il Real che è molto guardingo si ripeta di evitare di subire un gol in casa perché i gol segnati traspetta valgono doppio in queste competizioni in caso di parità di punteggio ecco il cross di Camacho colpo di testa di Paresi tenta il tiro al volo del Bosque esce Bordon sull'appoggio di Santillana a Pineda scatta Altobelli che viene fermato da un intervento anti-Ramuraro che viene fermato da un intervento del pacchetto centrale dei difensori di Madri Leni reclama in vano il pallo Altobelli un pallo piuttosto dubbio e riparte Stiliche del Bosque Stiliche Angel e colpo di testa di Paresi riprende Santillana si tira gli ribatte il tiro Bergomi ancora Angel e Pini che riesce ad allontanare attacco dall'altra parte da parte degli spagnoli con Pineda Stiliche tiro fuori ha cercato con insistenza Stiliche lo spazio per il tiro lo ha trovato schiorando il palo Bordone è partito non ha toccato giudicando a ragione il pallone fuori manca un quarto d'ora alla fine il Real conduce per 2 a 0 Proasca Marini intanto intanto sta preparandosi ad entrare in campo Portugal Spaginato perde questo pallone Del Bosque al centro troppo alto questa volta per Santillana Angel del Bosque del Bosque Navaja Stiliche Navaja tiro ed è Bordone questa volta bravissimo a deviare in calcio d'angolo tiro di Navaja libero con la marcatura stretta quando il libero si presenta al limite dell'area genera sempre un po' di confusione ecco Juanito ancora il calcio d'angolo respinge Bordone di pugno Santillana e poi rinvia Bini Navaja Ankel ha messo a lato Caso l'ha rimessa in gioco di Stiliche Navaja ecco il giocatore che ha tirato poco fa Camacho anche il tiro di Camacho ed è stato Baresi a fermare a rinviare poi Pasinato la palla era destinata a Altobelli ha rinviato su Altobelli Savito Pasinato fallo su di lui da parte di Angel non è Portugal il giocatore che sta per entrare ma è Hernandez una punta quindi Real tenterà ancora degli affondi in quest'ultima parte il cross di Pasinato è lunghissimo per tutti è controllato con molta tranquillità da Angel ma serve involontariamente Caso colpo di testa di Savito Santigliana e il Real opera la sua seconda sostituzione Boccov richiama in panchina Pineda e al suo posto fa schierare Hernandez finela entra in suo lugar per il numero 16 García Hernandez ecco la punizione il tiro il quale poi passaggio dopo il tiro di Cortes il quale si appoggia poi sulle spalle di Marini che rotola a terra e c'è un incidente adesso a Marini c'è un incidente a Marini Boccov ne approfitta per dare disposizione sembra più rimproverare i suoi che dare disposizioni tattiche si riprende Marini l'Inter ha già battuto il calcio di punizione caso Pasinato tenta di lanciare in attacco Canuti preoccupato di Canuti colpisce di testa in maniera maldestra Navas c'è una rimessa laterale per l'Inter nei pressi del calcio d'angolo Canuti Pasinato il cross è molto debole lo controlla Zavido si conquista la palla Proasca la rimette subito al centro la controlla Camacho Navajas Santigliana va via bene Santigliana verso Navajas e ancora una volta Marini generosissimo nell'azione di interdizione rilanci in avanti di Del Bosche il colpo di testa di Canuti Siliche che apre molto bene per l'avanzata di Davido il tiro la palla è fermata da Bergomi e favorisce quindi l'intervento di Bordone Pasinato Caso il lancio per Altobelli l'anticipo di Sabido il faro laterale avanza a rimettere in gioco Pasinato Canuti Fini Bergomi Caso Canuti ecco lo stioventi in aria esce il portiere attentatamente tiro fuori aveva già fischiato l'arbitro però aveva già fischiato l'arbitro prima del tiro di Altobelli vediamo no 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 l'azione vedete il tiro di Altobelli ma l'arbitro aveva fischiato infatti avete visto ha fatto rimettere in gioco il pallone comunque il brivido c'è stato a porta vuota il tiro di Altobelli la palla era però non in gioco probabilmente per un fallo sul portiere ecco Persellini che trepida in questi ultimi minuti di gioco certo per l'Inter segnare un gol un gol in trasferta sarebbe importantissimo infatti quanto il Real teme ha cessato di portarsi in avanti proprio per evitare il pericolo di subire questo gol e ci è andato vicinissimo ancora una volta l'Inter con Altobelli tiro sbagliato ma a gioco fermo Proasca Pini Canuti Caso Pasinato Muraro Pasinato disimpegno della difesa del Real prima con Savinto e poi con Navacal e scatta ancora Santigliana provato non riesce a raggiungere il suo lungo passaggio proveniente dalle retrovie a cinque minuti dalla fine il Real conduce per 2 a 0 Bergomi va a chiudere su Proasca Camacho mette fuori rimette in gioco di Proasca Caso Marinteso con Proasca e palla regalata in sballo laterale ai madrileni i lanciati del Bosque Angel al centro ferma e mette fuori Canuti ma viene quasi servito involontariamente Hernandez il nuovo entrato Caso Marini Marini Angel Angel Navacal Anziato lunghissimo Camacho che parte ancora una volta generosissimo ma non riesce a raggiungere raggiungere la palla marini 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 Niente, l'Inter non produce gioco ma osiamo dire che a questo punto i secondi che passano sono tutti in favore del Real e l'Inter che avrebbe bisogno di portarsi in avanti come adesso fa Basinato che ha saltato bene del Bosque ma esce Navajas che lo aggira bene del Bosque Hernandez del Bosque è ancora in possesso di una maggiore riserva di fiato il Real e Silic in questa fase le due squadre si temono il Real teme il gol dell'Inter l'Inter teme il terzo gol del Real Proasca aveva effettuato una elegante rovesciata ma Camacho era terminato in fuori gioco Camacho e Proasca hanno offerto alla partita forse il duello tecnicamente più interessante Che c'è l'altro si è andata campo avversaria, ma un colpo di testa di Navajas la rimette dalla parte opposta, Canuti spasinato, era già fuori quando ha commesso fallo Stiliche che rimette in gioco, ed ecco uno scatto di Angel, Angel vince il contrasto ma poi il rimpallo gli fa terminare la palla sul fondo, partita finita, 2 a 0 in favore del Real, l'Inter possiamo anticipare un commento, è piaciuta, ed è piaciuta parecchio nella prima parte della gara, quando la partita era sullo 0 a 0, si è difesa molto bene, quando il Real vinceva per 1 a 0, ha contrattaccato bene, è andata vicinissima al pareggio, Hernandez, Hernandez che cade in area di rigore, commette fallo di mano e l'Inter parte un caso di punizione, cioè mi dicevo quando il Real conduceva per 1 a 0, l'Inter ha giocato bene, è andata vicino al pareggio, poi invece quando ha subito il secondo gol, è mancata completamente, non ha più saputo reagire, è mancata quella frustata di orgoglio che poteva portarla a segnare quel gol che avrebbe reso più facile la partita di ritorno, il cross di Marini, la palla messa fuori area in tuffo, la riprende Fasinato, fermato Fasinato che combatte ma perde la palla, Santigliana, Angel, ha messo a lato Paresi, ecco ancora un tentativo di Stiliche, Marini ancora una volta arriva primo sul pallone lo mette fuori, l'arbitro guarda all'orologio, arbitrato bene nel complesso l'olandese Korver, ancora palla per Stiliche, nuovo cross, colpo di testa di Pini, palla fuori area, Altobelli, ecco il chischio finale di Korver, il risultato quindi della partita di andata è Real Madrid batte Inter 2-0, la situazione non è compromessa irrimediabilmente, possiamo definirla soltanto molto difficile e delicata per la partita di ritorno, ma alla partita di ritorno l'Inter avrà la formazione titolare, auguriamocelo, rientreranno Beccalossi dalla squarifica, Oriari dall'infortunio e quindi la posta e la speranza di arrivare alla finale di Parigi non sono certo tramontate del tutto, risultato dell'andata è di 2-0 per il Real con due gol di Santigliana al 29esimo del primo tempo di Juanito al secondo della ripresa, l'Inter ha giocato bene il primo tempo e l'inizio della ripresa, travitta dal secondo gol del Real non ha più ritrovato il filo del gioco, davanti a 100.000 spettatori ed oltre ha arbitrato la terna olandese, il di gara è Corver, ripeto ancora il risultato a chiusura della trasmissione a Madrid, Real Madrid batte Inter 2-0, signore e signori buonanotte da Madrid.